Quattro Tracce.fm presenta Lucio Meditazioni guidate con Maila Kolaotti Benvenuto in questa meditazione guidata Sono Maila e la mia voce ti accompagnerà a vivere un viaggio interstellare Scegli un luogo dove ti senti al sicuro e dove puoi lasciarti andare completamente Assumi possibilmente una posizione composta ma al contempo comoda e rilassata Sistemati in modo che la colonna vertebrale sia completamente dritta e rilassata Se ti è possibile sdraiati Stendi le braccia lungo i fianchi Se invece non ti è possibile sdraiarti e sei seduto mantieni le braccia raccolte nel tuo grembo e i piedi posati sul pavimento Oppure se sei un meditante esperto e flessibile puoi scegliere la posizione del loto a gambe incrociate Comunque sia non appena avrai trovato la posizione migliore per te chiudi dolcemente gli occhi ed entra nel tuo mondo interiore Scivola delicatamente in lui attraverso il tuo respiro E' l'indicato Respira come sai fare tu e a poco a poco rilassati, rilassati come sai fare tu a modo tuo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Con attenzione e partecipazione osserva il tuo respiro. Il tuo respiro che come le onde del mare si espande e si ritira. Si espande e si ritira. www.mesmerism.info 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 Lasciati. www.mesmerism.info www.mesmerism.info La tua vita. Il tuo respiro che a prescindere dalla tua volontà si manifesta e ti collega al ritmo di tutte le cose, al ritmo dell'universo che si espande. E si contrae. Come le onde del mare. Come il giorno e la notte. Come il sole e la luna. Come l'energia maschile e l'energia femminile. Come la stagione dell'inverno e la stagione dell'estate. Come la stagione dell'estate. Il tuo respiro si contrae e si espande. Come la stagione dell'estate. Come la stagione dell'estate. Come la stagione dell'estate. Sempre più pesante. La tua energia invece è sempre più leggera, sempre più leggera e mentre il corpo è sempre più pesante, la tua coscienza insieme alla tua energia sono sempre più leggere, come un soffione nel vento, a poco a poco. Si staccano dal tuo corpo. La tua coscienza sale sempre più in alto sopra il tuo corpo ed è sempre più leggera, tanto da arrivare fino al soffitto della stanza in cui ti trovi. Ora la tua coscienza può osservare il tuo corpo sotto di te, mentre è completamente rilassato. Sali sempre più in alto, oltre il tetto della tua abitazione. Riesci a vedere la tua casa sotto di te e le case intorno alla tua nelle vie limitrofe. Osserva tutto intorno a te. Cosa vedi? Procedi, vai ancora più su. Sempre più in alto, ora riesci a vedere il tuo quartiere, il centro del paese. E ancora più su, vedi tutta la tua città. Più su ancora e vedi la tua regione dall'alto. Prosegui sempre più in alto, fino a vedere l'Italia intera. L'Europa, i mari che la bagnano. Procedi ancora verso l'alto, fino a vedere tutti i continenti. Tutto il pianeta Terra dall'alto. Riesci a vedere l'atmosfera attorno alla Terra. E tu ti trovi nello spazio, immerso nell'universo. Riesci a vedere l'atmosfera attorno alla Terra. 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 Sali ancora e puoi vedere il nostro sistema solare. Ora vedi la nostra galassia. Ti volti e ti accorgi che tutto intorno a te ci sono infinite galassie, colori meravigliosi, forme sublimi e silenzi melodiosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tua coscienza fluttuo dolcemente tra le stelle, nella pace, nella totale accoglienza di questo momento, esattamente così come lo stai vivendo. Una profonda sensazione di unità ti accompagna. Caro viaggiatore interstellare, guardati attorno. Tra le tante stelle, galassie e pianeti, una particolare stella ti attrae e lentamente ti attira a sé. questa stella ha un dono per te, questa stella ha un dono per te, essa sprigiona un'energia speciale, un'energia, un'energia di cui senti il bisogno in questo momento della tua vita. raggiungi la stella. Raggiungi la stella e lasciati inebriare da questa energia benefica, qualunque essa sia. se si sta manifestando a te è perché ne hai bisogno, oppure ha un messaggio speciale per te. bene, raggiungi la stella e sintonizzati a lei, apri il tuo cuore alla sua energia. la puoi percepire come un fluido caldo o fresco che ti cullano, oppure puoi percepirla come una vibrazione avvolgente. rimani in totale accoglienza, permetti a questa energia di espandersi a tutte le tue cellule. e poi ne è ancora una. ppure Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lentamente intraprendi il volo di ritorno. Ti trovi alle soglie della nostra galassia. Ora sei dinnanzi al nostro sistema solare. Da lontano riconosci la terra. Oh, quanto è bella. Ti avvicini a lei e appena varcata la soglia dell'atmosfera potresti sentire il desiderio di donarle un po' dell'energia che hai ricevuto dalla stella. Semplicemente immagina di trasmettergliela attraverso il cuore, come se dal tuo cuore sgorgasse quella vibrazione o quel fluido e che si irradia verso la terra come un dono, come una benedizione profonda. Grazie a tutti. 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 La tua città continua a benedire con il cuore tutto ciò che il tuo sguardo incontra. Ora puoi vedere il tuo quartiere, la via di casa tua, la casa in cui ti trovi. Vedi il tetto e scendi sempre più giù fino a vedere il tuo corpo rilassato in meditazione. E dolcemente la tua coscienza rientra nel suo corpo portando con sé infiniti doni di benedizione. Tutta la tua coscienza riprende possesso del tuo corpo, ogni parte del corpo. Percepisci il cuore. La pancia. Il pupe. Le gambe. I piedi. Le spalle. Le braccia. Le braccia. le braccia la testa. Infine il viso. cara anima amica il nostro viaggio è giunto a destinazione riprendi il contatto con il corpo con il luogo in cui ti trovi e con i tuoi tempi dolcemente portando le mani sul viso a riapri gli occhi pronta per una nuova avventura nella tua vita con amore Mayla